ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video makeup per quanto riguarda astra e oggi proveremo a fare una full face di nuovo perché la scorsa volta ho utilizzato questo fondotinta che si chiama astra iconic perfect questo qui nella colorazione 03 ma oggi voglio provare aspettate che sono questi prodotti oggi voglio provare ovviamente li metteremo insieme questi due che non l'ho mai utilizzati poi voglio fare un makeup con il verde è tantissimo che non faccio un makeup con il verde non mi ricordo se ho fatto altri makeup sinceramente ma mi piaceva provare di nuovo questa palettina e quindi facciamo una full face ovviamente qui abbiamo tutti i prodotti e andiamo a vedere cosa possiamo combinare allora vado a mettere sì cade tutto vado a mettere come sempre il correttore anzi aspettate che mi avvicino questo perché siccome ho un po di mal di testa mi viene male prendere lo specchio quella forma aia quella forma di corona perché ho mal di testa quindi il fatto di avvicinare e allontanare il come si chiama il fatto di allontanare e avvicinare lo specchio mi sta dando un pochettino di fastidio però ovviamente poi lo utilizziamo di nuovo perché mai rendersi mai 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 allora stavo dicendo che mi viene un po male e quindi preferisco per oggi avvicinarmi avvicinarmi con diciamo con lo specchio questo qua e mi serve l'appoggio allora iniziamo con la palettina allora io avevo pensato di fare un makeup con il verde e di utilizzare super giù il verde militare come ombretto proprio nello specifico e poi mettere qualcosa sopra la mia idea era questa di enfatizzare la l'ombreggiatura con questo o questo allora ci devo pensare allora posso fare l'ombreggiatura con questo che è leggermente più scuro no questo questo faccio aspettate oddio io mi mi perdo in queste cose mi perdo mi perdo veramente perché inizio come sempre nel voler fare una cosa e poi va a finire che ne faccio altre 100 e tutte diverse e questa è la particolarità cioè le altre 100 che voglio fare sono tutte diverse allora inizio col prendere il verde quello più chiaro e lo metto qui vedete che non è che è un verde proprio chiaro 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 come si vede nella cellulina e lo applico come vi ho detto l'altra volta al di sopra del mio osso e lo picchietto faccio la stessa identica cosa anche in questo sono un pochettino polverosi non state attenti in caso io vi consiglio sempre di fare la base dopo se dovete preferite la base dopo perché sennò dovete mettere la cipria e dipende come avete voi il contorno occhio adesso diamo una spolverata all'ombretta in più allora adesso sempre con lo stesso pennellino che questo è quello di Nabla il white rose lo smoothidge vado a prendere vado a prendere il verde militare un po' più scuro e lo vado a mettere proprio a chiudere questa parte quindi i due laterali prendetene poco alla volta e vado a come se stessi tirando una linea così e sfumo leggermente nella parte di dentro non so se si è capito lo rifaccio allora prendo il pennellino ovviamente vedete che è schiacciato a una punta mi sentite bene o tirate l'occhio così se vi viene bene io mi ci appoggio leggermente faccio questa linea così e poi sfumo nella parte di dentro poi in caso lo portate così faccio la stessa identica cosa e poi controlliamo di nuovo adesso prendiamo sempre il verde più scuro e lo sistemiamo sempre tirandolo in questa maniera e poi sfumandolo e io preferisco anche andare così cioè dare un taglio così nell'occhio non so se si vede la stessa cosa faccio da questo lato prendo lo scendo così e poi lo sfumo leggermente adesso andiamo a prendere un pennello così abbastanza ampio e andiamo a prendere il verde quello più chiaro e sfumiamo qui nella parte in alto la stessa identica cosa da questo lato se notate un sopracciglio vedete che in un lato il mio sopracciglio finisce qua nell'altro lato il mio sopracciglio finisce qua c'è una leggera proprio leggera differenza automaticamente già l'ombretto si alza o si abbassa in modo diverso non so se notate la stessa identica cosa io lo noto perché è una cosa che già da tempo mi dava fastidio quindi lo noto subito adesso cosa facciamo prendiamo una cipria io ovviamente prenderò questa di astra di solito utilizzo quella della elf una cipria qualsiasi in polvere io preferisco prendo il pennellino sempre questo qui da sfumatura io ve lo consiglio questo è un consiglio che potete fare per non colorare più la piega cioè per non salire più con l'ombretto e andate a sfumare i bordi con la cipria perché essendo che è traslucente quindi non ha colore vi viene anche meglio nel opagizzare questa parte nello sfumare proprio l'ombretto che avete messo qua sopra allora a me piace così vedo un po' macchia messa così vedo un po' macchia qui invece no mamma mia qua ho tutta la faccia piena piena di oltre che si sta morendo al caldo allora io vedo leggermente allora applico un altro po' di verde scuro lo applico forse è meglio anche tamponato da questa parte così sempre tamponato però così la stessa identica cosa dall'altro lato fino a metà occhio e poi con l'altro cioè aspettate un pennello normale perché ce l'ho tutti a normale ehm con il pennello cioè con il colore verde chiaro il verde chiaro questo qui andiamo a tamponare qua sopra per ridare il colore non lo vado a sfumare perché mi ha tolto un po' di colore voglio vedere se tamponato così me lo ridà vedete che è un po' tipo sembra macchia e poi sfumiamo andiamo andiamo a mettere un po' di panna proprio sotto l'arcata sopraccigliare mettiamo un po' di panna proprio sotto l'arcata sopraccigliare facciamo facciamo le stesse vedete sono degli ombretti molto pigmentati eh per la sfumatura sono un po' gnagnè ma come avete visto abbiamo dato un po' di profondità all'occhio e illuminato proprio sotto l'arcata così se ci fate caso la la bombatura se risale di più non so se si vede la differenza che abbiamo dato profondità e luce e quindi già l'occhio sembra molto molto diverso adesso dobbiamo eh utilizzare eh un ombretto proprio nella parte di dentro e sinceramente eh non so cosa mettere allora vediamo se eh facciamo una cavolata eh voglio mettere il verde il verde il verde questo qua che è leggermente glitterato su tutto l'occhio e poi metterò al di sopra forse è meglio che lo utilizzo o con le dita allora a me non piace eh non piace non piacciono quei quegli ombretti dove voi li dovete toccare con le dita oddio non mi piace perché poi a me non piace sporcarmi allora vediamo con le dita se l'ondetto è molto più scrivente allora molto ma molto più scrivente però chi ha le unghie viene malissimo devo chiedere all'alizzi visto che lei sta utilizzando queste ombrette ma però guardate appena si toglie si toglie l'effetto eh no non mi piace allora eh proverò a bagnarli non mi ricordo se l'altra volta l'ho bagnate voi ve lo ricordate in caso scrivetemi un commento se avete visto il video e ehm vorrei essere sicura ehm che l'abbiamo bagnata ed era tutto a posto io comunque lo bagnerò sempre se trovo il pennello ehm che può essere utilizzato bagnato dici ma hai tanti pennelli infatti proprio per quello prendo un pennello piccolo utilizzo ehm lo spray direttamente questo qui di ehm aspettate prima prendo il colore lo spray di astra nel frattempo ha spruzzato dappertutto e andiamo no non ho preso il colore insomma se no invece di utilizzare quello io vorrei utilizzare questi qua che dite proviamo 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 a utilizzare questi e notate differenza non li buttate li trovate in delle palettine non li buttate non vi conviene certo la cialda un po' si rovina però almeno riusciamo riusciamo a fare un make up ok quindi ho utilizzato il dito ho utilizzato questi tipi di ombretti e ombretti pennelli questo era leggermente bagnato e quindi dobbiamo rifare la stessa identica cosa non possiamo fare da una parte si dall'altra no perché vedete togli anche l'ombretto con quel pennello quindi no adesso mi serve un pennello e vado a prendere di nuovo questa parte con il verde più scuro questa parte con il verde più scuro e vado a sfumare proprio questa parte dell'attaccatura per togliere il di stacco così allora per quanto riguarda il make up per me va bene così ho finito anche le salviettine si da posto allora adesso puliamo l'altra volta abbiamo messo una matita nera qui è andata tutta la polvere abbiamo messo una matita nera se non mi sbaglio abbiamo messo questa qui quindi adesso andremo a utilizzare quella retraibile 24 ore metterò questa che è astra 24 ore color stain pencil è una matita lunga durata morbida vediamo come mi ci trovo come invece mascara andrò a utilizzare sempre questo perché col fatto che è aperto io a me non piace sinceramente aprire tanti mascara preferisco allora vado a piegare le ciglia e come stavo dicendo poco fa io non apro tanti mascara perché non truccandomi tutti i giorni rischierei di buttarli nuovi e sinceramente questo che li acquisto io con i miei soldi preferisco testare un prodotto alla volta allora questo mascara già ho utilizzato un bel po di volte in vari make up anche non astra e sinceramente mi piace tantissimo quindi aveva ragione sia fabiana che alex lei l'aveva consigliata a fabiana e quindi ottimo le pillole già le ho prese devo dire che questo verde mi piace devo dire che questo verde mi piace forse una volta mi sono truccata di verde no non mi sono truccata io mi hanno truccato io per un matrimonio ero bionda ero bionda e per un matrimonio dovevo fare la testimone mi sono comprato un vestito verde dove l'ho comprato a scordia da una brevissima persona e tutto adesso metto il primer di astra mi ci sono trovata bene quando l'ho provato l'ultima volta adesso vediamo con i fondotinta nuovi vi stavo dicendo ho comprato questo vestito verde perché dovevo fare da testimone quindi dovevo avere un abito abbastanza particolare e soprattutto questo vestito era verde ma verde chiaro molto molto bello veramente molto 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 bello con tutti strass e tutto poi col fatto di essere bionda quel verde spiccava tantissimo e quindi io a quell'epoca quindi tanto tempo fa non mi truccavo ma mi facevo truccare da un estetista io quando avevo matrimoni o altre cose cerimoni eccetera mi facevo truccare dall'estetista non mi truccavo mai io perché avevo paura di sbagliare tutto e quindi mi truccava l'estetista allora adesso arrivo alla parte devo trovare la colorazione giusta per me per quanto riguarda il fondotinta quindi vado a fare tutte le prove poi ci vediamo dopo ciao allora ho appena matchato i due fondi credo che non lo so proviamo ovviamente perché è la prima volta che provo questi speriamo e lo utilizzo con la spagnetta così non viene troppo troppo netto il colore io preferisco sempre più chiari e non al contrario perché quelli chiari potete mettere una cipria più scura potete mettere un fondo cioè con il correttore sistemare ma è la stessa identica cosa sia chiaro che scuro lo potete sistemare io preferisco di più quando riesco a matchare bene il colore a trovare proprio la mia tonalità allora forse forse l'ho fatto troppo chiaro ma io l'avevo messo qua e sfumato e mi sembrava buono non lo so allora non è che mi piaccia tanto questo questo fondo allora perché mi mi si attacca alla spugna lo sento anche appiccicoso sinceramente allora lo porto anche nel collo anche se come vi dico sempre devo andare da mia mamma per il caffè non è che dice devo fare chissà che cosa poi per quanto riguarda io di solito utilizzo il correttore ma avendone messo abbastanza di questo prodotto cioè del fondotinta utilizzo il fondotinta come correttore e considerate mamma mia mi si sono attaccata le cosce nella poltola allora considerate che io le spugnette le utilizzo bagnate cioè sono umide belle strizzate io li lavo poi li strizzo bene 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 quindi mai asciutte specialmente che io ho una pelle secca quindi mai 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 asciutte allora devo dire che è buono anche come correttore ovviamente non ho messo nessuna base al di sotto perché sto provando solo prodotti astra quindi non posso perché di solito utilizzo il prodotto quello di becca che mi ci trovo benissimo a differenza di poco fa quando ho applicato il fondotinta proprio all'inizio mi sembrava molto chiaro infatti avevo pensato come l'avevo miscelato qui avevo pensato che era abbastanza chiaro invece no il fatto che vabbè ci sono delle due striature che sono perché ho fatto le ne e mie non so se vedete anche l'orecchio arancione ma comunque mi è sceso un po' di colore e si è ossidato si è ossidato e devo dire che il colore sembra sembra giusto ovviamente poi io alla fine o lo scriverò oppure farò un piccolo video perché sapete tutti che adesso io poi vado a prendere il caffè da mia mamma poi quando torno andremo a vedere se il colore è buono oppure no allora adesso qui nella palettina andremo a mettere un po' della cipria perché questa qui è la 02 non è la translucent io di norma utilizzo la translucent che sarebbe la cipria chiarissima e che non ha bisogno diciamo di cioè che è chiara va in poche parole e metterò un pochettino di questa qua perché io di solito non la uso mai non la uso mai scura la cipria perché non escono questo è quello che mi secca nelle cipria io sono abituata a quella di health che ha una polvere sottilissima questa è buona come come cipria però ovviamente ok io la preferisco allora utilizzo il pad che c'è all'interno e la mischio vedete perché quella è troppo scura e quella è troppo chiara per il mio incarnato l'odore è pazzesco mi piace tantissimo l'odore di questa cipria infatti se avrò la possibilità di vederle devo prendere altri colori vorrei prendere proprio un colore chiaro come vi ho detto poco fa ad esempio se il fondotinta era troppo chiaro mettevate questa cipria e aiutavate aiutavate il match per quanto riguarda il vostro viso allora dopo aver fatto questo vado a mettere l'ombretto quello più scuro nella parte di sotto o mettiamo quello chiaro per dare più colore mettiamo quello chiaro mettiamo il verde chiaro nella parte di sotto vediamo come viene e niente è un'ottima cipria veramente ottima cipria io ne avevo una presa tanto tempo fa ma tanto tanto tempo fa non so se vi ricordate c'erano anche degli ombretti in crema io li avevo presi ma purtroppo si seccarono veramente subito e mi è dispiaciuto tantissimo perché erano delle bellissime ombretti dei colori stupendi si nota il verde è che spesso con questa luce a me sembra tipo una cosa a voi me ne sembra un'altra no no vabbè è ottima dai ok va bene adesso andiamo a togliere tutta la cipria mamma che profumo che fa ma è buonissima io è da un bel po' di anni che utilizzo la cipria della elf quella translucent perché mi trovo bene perché non mi colora il viso perché sapete tutti che molto spesso le cipre fanno flashback nel senso vi fate una foto qui io una volta però non mi ricordo ora qual era questa cipria mi sono fatto una foto pazzesco ragazze l'ho avvicinata sapete che dovete ingrandire la foto qua sotto ero bianca ma bianca proprio si vedeva ho detto ma com'è potuto succedere una cosa del genere mi è potuto succedere perché mi è successo non mi è potuto come mi è successa questa cosa queste cose possono succedere perché non si utilizzano i prodotti adatti e ci sono rimasta lì perché nessuno se ne era accorto naturalmente nessuno se ne era accorto ma io che noto la qualunque su chiunque ci sono rimasta malissimo allora già la matita nera se ne è andata ne è rimasta pochissime abbiamo fatto solo il viso niente da fare e adesso dobbiamo andare con il blush ma non mi ricordo dove è il blush di astra eccolo qua allora come blush di astra è sempre il solito nella colorazione 04 io non sopporto i packaging che non vogliono essere aperti il colore questo è del mio colore utilizzo sempre il pennello di poco fa che è quello di make up the light e sinceramente mi perde peli non so ditemi voi cosa ne pensate con questo tipo di blush dovete utilizzare un pennello abbastanza ampio che non vi rilascia tanto colore perché sono dei prodotti molto molto pigmentati questo blush è molto pigmentato e se vedete mi lascia una luce nelle guanciotte che non ho bisogno nemmeno dell'illuminante ok e invece come illuminante posso anche utilizzare questo ombrettino qua però non lo so vediamo vediamo utilizziamolo tanto non è che devo fare qualcosa allora metto lo spray su tutto il viso tolgo mmm buono e con un pennello questo qui sempre di make up the light vado a prendere questo questo ombretto che si sta sgredolando e lo metto qua e rosa non so se si nota un po' sul nasino e le guanciotte si nota e anche che si e adesso andiamo a sventolare per togliere questa umidità sul viso allora vabbè vabbè ancora non si è tolta qui nella fronte come colore si è ossidato però certo ci sono queste due linee qua che sono uno spettacolo adesso adesso andremo a mettere la matita labbra io direi di mettere il nude perché credo che ci sia meglio al contrario del malva questo questo è forse forte e questo è un combo tra 8 e 2 allora così è bello e così facciamo facciamo una cosa cosa che di norma non faccio mai metto la matita questa qui metto la matita questa e poi provo anche l'altra così proviamo tutte e due e vediamo quale delle due piace di più a voi vediamo questa è la prima proposta con la matita 33 e il rossetto 06 quindi ditemi cosa ne pensate di questa proposta grazie